Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Nella recente finale di Decimo Factor, uno degli assenti più discussi è stato senza dubbio Morgan. L noto ex cantante dei Blue Vertigo ha fatto parlare di sé con dichiarazioni audaci e commenti pungenti nei confronti della giuria, mentre al Forum di Milano veniva incoronata Sarafine come vincitrice della nuova edizione del Talent Show. Morgan, sempre pronto a esprimere la propria opinione senza filtri, ha risposto alle provocazioni con il suo classico stile, inviando un messaggio su WhatsApp e i media. Secondo quanto riportato da Novella 2000, l'artista ha iniziato il suo sfogo affermando, e dunque, se è vero che io, come altri uomini e donne creativi, curiosi, aperti e fantasiosi, sono un individuo interessante, occorrerebbe mettere l'attenzione sul perché sono interessante, non sul modo in cui la mia emotività si manifesta sotto il massimo livello di stress e disfunzionalità provocata o indotta. Con una carriera nel mondo dello spettacolo che abbraccia ben 40 anni, Morgan ha ribadito il desiderio del pubblico di vedere gli artisti nella loro maestria e specialità, anziché esasperati o umiliati davanti alle telecamere. Ha criticato aspramente la decisione della giuria di optare per la sua esclusione dal programma, definendo l'atto come una dimostrazione di ignoranza da parte di chi dovrebbe rappresentare l'industria moderna. Agire in questo modo con un lavoratore, scegliere all'unisono di espellere il musicista da un programma musicale e da una manifestazione culturale, è da bifolchi, non da industria moderna, non da commercio democratico, ha affermato Morgan nel suo messaggio. Ha invitato coloro coinvolti a imparare le regole della civiltà e a smetterla di perseguire unicamente il profitto, definendo la loro condotta come «ridicola». Le sue parole hanno gettato luce su aspetti critici dell'industria dello spettacolo, sottolineando l'importanza di preservare l'integrità artistica e culturale, anziché cedere alle dinamiche di mercato. In un momento in cui il dibattito sull'etica e i valori nell'intrattenimento è sempre più acceso, Morgan ha sollevato questioni significative sul rapporto tra l'arte e la spettacolarizzazione a tutti i costi. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.